Castelli, rocche, ville, parchi e giardini visitabili gratuitamente, il più grande museo diffuso d'Italia riapre così le sue porte. Domenica 21 maggio torna infatti la giornata nazionale dell'Associazione di More Storiche Italiane, giunta quest'anno alla sua tredicesima edizione. Su 500 monumenti nazionali 120 sono in Toscana distribuiti in tutte le province, 11 ad Arezzo, tra questi anche la Casa Museo Ivan Bruschi. In collaborazione anche con l'Associazione Case della Memoria, sono anni che collaboriamo con queste associazioni e proporremo l'ingresso gratuito alla Casa Museo con la possibilità di vedere sia la nostra collezione permanente che la mostra, la sottilità dell'area con la Fondazione di Nari di Firenze che è stata prorogata fino al 31 ottobre. In occasione della giornata internazionale dei musei, Casa Bruschi ha organizzato poi per sabato 20 maggio alle 16 un percorso dal titolo Insolite e Sostenibili Invenzioni. Un percorso didattico per i bambini in collaborazione con le Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo sulla sostenibilità e sugli oggetti scientifici della collezione per bambini dai 8 ai 11 anni.